Proseguono al Museo del Violino le sessioni di osservazione e confronto fra maestri liutai organizzate dal Comune di Cremona insieme con le istituzioni cittadine, nell'ambito del Piano di Salvaguardia del Saperfare Liutario, che dal 2012 è riconosciuto patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Gli incontri coinvolgono una quarantina di maestri e alternano momenti di inquadramento storico ad altri di studio degli strumenti Stradivari, Guarneri e Amati, che dalle teche vengono portati in aula, come ricorda il conservatore Fausto Cacciatori. Credo che la possibilità di vedere questi strumenti, cogliendone le caratteristiche e gli aspetti costruttivi, sia indubbiamente un percorso rappresenta, indubbiamente un percorso di accrescimento delle competenze degli utai cremonese. Devo dire che da questo punto di vista la cosa è molto molto apprezzata. Tramandare le tecniche costruttive tradizionali, avvalendosi anche delle analisi sugli strumenti storici effettuati dai laboratori scientifici attivi a Palazzo dell'Arte, consente ai utai di acquisire informazioni rilevanti, come sottolinea Bruce Carlson, maestro di fama internazionale, che insieme a Cacciatori coordina gli incontri. Noi siamo qui oggi per il fatto che questi grandi liutai, tanti secoli fa, hanno fatto le loro opere qui a Cremona. È importante che con ogni nuova generazione che viene fuori, nuovi liutai, di avvicinare di più sempre questo metodo cremonese che va ricordato. Il piano di salvaguardia promosso dal Comune valorizza l'artigianato musicale, che a Cremona ha un duplice impatto sulla cultura e l'economia, come spiega il Sindaco Gianluca Galimberti. Qual è il patrimonio vero della nostra città? Sono innanzitutto i nostri liutai. L'investimento è facciamo crescere la sapienza dei nostri liutai, che è già alta sicuramente, perché questo diventa fondamentale per consolidare la loro presenza e per rendere anche più competitivo il nostro sistema.